Ciao fiorellini, ciao fiorellini, capelli confi, stanno iniziando a venire l'inverno in casa ottobre, mi stanno a crescere un botto, super morbidi, non so se si vedono, wow, e sto andando con la macchina, ah la coppia si aprò a fabbrica a far prima, e via la sigla e ci parliamo dopo. Ecco, sto andando alla coppia, e appena parto da casa ci sta lo stop, e sto andando alla coppia, si fa prima con la macchina, ci sta iniziando a fare, e vado giù alla coppia perché Guedino devo andare a prendere le rosette, devo andare a prendere le rosette perché Guedino è una pepsi, e vedo se non c'è tante persone, voglio comprare due di prosciutto crudo, se non c'è stata tante persone, solito la coppia piena, mamma mia, super pieno, oggi mi devo rilavare i capelli, perché è sabato, e questo qua lo metterò dopo domani penso, per domani c'è, beh, non mi ricordo, dovete, su quell'app che abbiamo noi youtube per vedere tutti i video, roba così, perché su youtube non si vede, perché io ricarico se, in caso non ricarico sempre al giorno, perché chiedi una roba così, perché per essere sicura, perché tante volte youtube blocca, ricarico con tranquillità, e vabbè, comunque ci porto una maglietta che c'è il gattino, ecco sono arrivata alla coppe, con la macchina in un minuto siamo arrivati alla coppe e vado a prendere le rosette, spediamo che ci stanno, perché qua vendono delle rosette, che il panificio che ne compravo stava a Civita, e perciò ci stanno qua la coppe, mi aveva detto, e le vende rosette, il pane, è roba, è roba sua, però non è, non c'è il panificio a, proprio dove lo fanno a Civita, cioè, non mi ricordo che paese è, vabbè, comunque, portano pure qua, è buono col pane, insieme di terri, mi piace uguale, e guardate quanti capelli, mamma mia, mi sono accorciate un botto, qui ce l'ho pari, ci sono tanti qua sopra, qua sotto ce l'ho di meno, perché sono più corti, vabbè, erano rasati, va bene, comunque, ci vediamo dopo, facciamo un po' di video, tanto che là dentro non ci posso fare, perché vi ho fatto vedere che non vogliono che registri, che sta di vieto, sia dei segretti, sia dei cani, eppure della fotocamera. Poi c'è tempo strano, numeroso, fa di nessunno. Oggi morigio faccio la pizza, e poi oggi ci farò un video, vediamo, come faccio il passo della pizza. Io adesso vi lascio, ciao, al prossimo video, ciao, a dopo, che prossimo video, dopo, dopo quanto esco. Ecco i fiorellini, i fiorellini, sono ritornata, il prosciutto, quello che posso mangiare io, costa un montaggio dei soldi, 3 euro a letto costa, ma vedevo, ho comprato quella coppia, a me quello che fino adesso, mi piaceva quello di Tafur, dei nevi, fa manovra, qua, l'uscita, qua. Fino adesso, mi è piaciuto solo al Tafur, dei nevi, il prosciutto, tanto che costa, mamma mia, forse sui paesi costa di più, o le cose, non so, e, vabbè, comunque, adesso stiamo andando a casa, e, tutto il tempo di andare a casa, poi, ci lasciamo, questo piccolo video, perché sta fabbrica non è che due minuti di video sarà tutto, e, e niente, comunque, oggi mi devo lavare i capelli, non lo so perché, adesso che non mi faccio più di colorazioni, mi si sporcono tantissimi capelli, non lo so proprio perché, adesso muovo a terra a casa, e poi si fa, si fa subito, tanto la differenza di Tafur, è buono, è prosciutto, è bello, è mollo, è buono, mi piace tantissimo, e poi, pure che, costa di meno, non so, 7 euro, 3 etti, però, mo, io, quando prendo la pensione, andiamo lì a fare spesa, mo, io, ricoprò 3 etti di prosciutto, e, fino a ora, sono lì, mi è piaciuto, questo qua, la coppa, ho detto, ho dovuto prendere questo, dolce, perché, ho preso le mani, tante, beh, prendo le pasticche, ho fatto veramente, ce le prendo le pasticche, ho sentito, che tante volte, mi vasuro, con tutte le pasticche, la pressione, e, insomma, riesco a tenere la poppia giù, perché, mi mangio prosciutto, dolce, il mangiolo, il sale, quello proprio per la pressione, non è che dobro, sale normale, io dobro sale, proprio per la pressione, pane sciapo, e, tutte queste cose qua, perciò, pure, su queste cose qua, sto attento, a non far mandare sulla pressione, perché è per essere pericoloso, ti fa rovinare il cuore, cose cerebrali, e, perciò, niente, il cuore non c'ho problemi, però, prima ce l'avevo, un po' un mese, passato, non so, però, a me è venuta la pressione alta, cosa attento, io già sto a prendere, una passicca, per non far mai venire, Virtus, e roba così, e, con la pressione alta, mi ha dato subito, la passicca, dottore, perché, già sopporte, quelle passiccherie, perciò, niente, vediamo un po', vabbè, cosa, vabbè, sinceramente, io, non mi sentivo male, pressione alta, non mi sentivo niente, non mi sentivo proprio niente, prima soffrì, di pressione bassa, mi si è sballato tutto, dopo quella dieta, mi si è sballato tutto, si stava rovendo il cuore, perché, non, si stavano deboli, perché, senza, cose così, proprio, dieta, stretta così, fa male, i dieti proprio, strette, mamma mia, però, i due punti, perciò, fa piastra, sempre, come bruciati, i due punti, non so se siete, per video, non so come farvelo vedere, qui giù le punte, perché, mi faccio la piastra, due o tre settimane, perché, per farmi raggiusta, i capelli, però, qua giù, ma, perché, muo, dicembre, mi rispunta, qua, mi aveva un pezzettino, dei capelli, però, ci vorrebbe a mettere, mollettine così, la piastra, infatti, ho fatto la spazzola, però, qua dietro no, qua dietro ce l'ho, belli sane, perché qua dietro, non mi faccio con la piastra, l'ho qua, appena lavata di nuovo, dopo, mi si increspano sempre, però, mi dà come dice l'olio, forse, giù le punte, di capire, l'olio, dell'ina, e robe così, va bene, io adesso, vi posso lasciare, perché fido questo video, e ciao, al prossimo video, mega pace, a tutti,